salve a tutti io sono mister rob e quello che state per vedere è un recappone dell'intera serie televisiva dark un recappone fortemente richiesto da voi che seguite questo canale perché evidentemente mi volete morto nel caso non abbiate mai visto questa serie e vogliate togliervi lo sfizio di sapere di che parla o nel caso l'abbiate vista e parliamoci chiaro siete andati completamente nel pallone ecco forse questo è il video che fa per voi quindi mettetevi comodi blocchetto per gli appunti tisanina coperta quello che volete e direi che possiamo cominciare ecco a voi la cittadina di winden in germania un luogo piacevole specialmente se amate le foreste inquietanti zeppe di caverne misteriose e avere una gigantesca centrale nucleare che troneggia sulla vostra vita la storia inizia ufficialmente il 21 giugno del 2019 quando michael kahnwald apparentemente senza alcun motivo decide di togliersi la vita lasciando la sua famiglia nel dolore più assoluto cinque mesi dopo troviamo suo figlio jonas che sta tentando di tornare alla vita di tutti i giorni dopo un lungo percorso di terapia per elaborare la morte di suo padre peccato che appena tornato a scuola scopra che il suo migliore amico bartosh tiderman ha iniziato una relazione con marta nielsen la ragazza della quale jonas è innamorato invece la madre di jonas anna kahnwald sembra guardare avanti dopo la morte del compagno dato che ha già una relazione clandestina con il poliziotto ulric nielsen e dico clandestina perché lui è già sposato con katarina nielsen la preside della scuola e hanno tre figli marta l'interesse sentimentale di jonas che abbiamo appena visto magnus e il piccolo michael la cittadina di winden è parecchio sconvolta per via della sparizione di un ragazzo eric obendorf e ulric sta lavorando assiduamente per risolvere il caso insieme al capo della polizia charlotte doppler il ragazzo sparito eric sembra che sia stato rinchiuso in un luogo poco gradevole un'inquietante stanza arredata in stile anni 80 con una sorta di sedia elettrica al centro al quale viene legato per qualche sorta di esperimento dato che il ragazzo scomparso era lo spacciatore del paese magnus propone a jonas di fare una visitina notturna nel luogo dove nascondeva le sue scorte di erba e così il gruppo di amici approfittando del fatto che quella sera l'intero paese è impegnato in un'assemblea cittadina per discutere della scomparsa di eric si reca sul posto con magnus e marta che sono costretti a portarsi appresso anche il fratellino michael perché non hanno nessuno a cui affidarlo e giunti nel luogo dove dovrebbero trovare l'erba che è poi l'ingresso alle caverne trovano anche francisca doppler la figlia del capo di polizia nonché cotta di magnus ma c'è un dettaglio molto importante da sottolineare quando michael si tolse la vita lasciò una lettera la cui busta diceva di leggerne il contenuto solo il 4 novembre alle ore 22 e 15 ma quella lettera non arrivò mai a jonas e alla sua famiglia perché è stata presa in custodia dalla madre del defunto michael in scambald e siccome siamo proprio al 4 novembre la donna apre la lettera all'orario esatto legge il contenuto e ne resta sconvolta mentre contemporaneamente arrivano degli strani suoni dalle caverne le torce sembrano smettere di funzionare i ragazzi fuggono e nella confusione generale il piccolo michael svanisce nel nulla e nello stesso momento in piena assemblea irrompe helge doppler il suocero di charlotte che grida disperato succederà di nuovo come se sapesse quello che sta accadendo ovviamente questa nuova scomparsa sconvolge il paese e sconvolge ulrich perché non solo è sparito suo figlio ma anche perché tutto questo gli riporta alla mente la drammatica scomparsa di suo fratello minore mads che scomparve nel nulla 33 anni prima come se una maledizione pesasse sulla testa di quest'uomo le indagini si fanno subito pressante e viene trovato il corpo di un ragazzino che non è michael ma è un altro bambino con delle lustioni sul viso che noi possiamo subito ricondurre a quella strana sedia elettrica e un abbigliamento in stile anni 80 notiamo che la sparizione di michael ha innescato qualcosa in peter doppler il marito di charlotte nonché psicologo cittadino che sembra sapere qualcosa di quello che è accaduto anche se qui c'entra molto la disgregazione del suo matrimonio dovuta a una relazione con una prostituta transgender della quale la stessa charlotte peraltro sa tutto e lo stesso vale per i genitori di ulrich dato che suo padre tronte pare essersi assentato la sera della sparizione senza dire niente a sua moglie e mettendo poi a lavare un abito sporco di sangue ulrich inizia a esplorare le caverne raggiunge una porta che si trova proprio sotto la centrale nucleare quindi chiede il permesso di perquisire l'edificio ma il direttore alexander tiderman si rifiuta di farlo accedere alexander è il padre di bartosh il migliore amico di jonas ed è marito di regina l'attuale proprietaria dell'unico albergo di winden peraltro in serie difficoltà economiche oltretutto malata di un cancro al seno diagnosticatole da poco un misterioso straniero che d'ora in avanti chiameremo lo straniero figo perché insomma lo è esce dalle caverne proprio durante le battute di ricerca di michael e affitta una stanza nell'albergo di regina è chiaramente un personaggio coinvolto in questa storia perché tappezza le pareti della stanza di articoli disegni assortiti e porta con sé in una valigia un inquietante marchigegno pare che stia a sua volta indagando su michael che all'insaputa di tutti sembra che stia abbastanza bene infatti lo vediamo ritrovare l'uscita delle caverne e tornare immediatamente a casa ma arrivato a casa trova un ragazzo che si chiama esattamente come suo padre che se ne va con una ragazza che si chiama esattamente come sua madre perché quelli sono i suoi futuri genitori dato che michael attraversando le caverne è tornato indietro nel tempo fino al novembre del 1986 tra l'altro michael è capitato lì un mese dopo la sparizione di quello che sarebbe stato suo zio maz quindi il clima familiare è pessimo e ulrich ce l'ha a morte con l'attuale capo della polizia egon tiderman perché lo ritiene un incompetente ubriacone che non sta facendo abbastanza per ritrovare suo fratello e forse proprio per questo che 30 anni dopo ulrich finirà per fare il suo stesso mestiere comunque egon prende sotto la sua ala piccolo michael e lo porta in ospedale dove viene avvicinato dalla giovane infermiera ines che noi abbiamo già visto da anziana ne approfittiamo per vedere altre facce conosciute come anna che già sembra manifestare una forte attrazione nei confronti di ulrich e regina che qui è una ragazzetta problematica vittima di bullismo regina è la figlia di claudia tiderman che a sua volta è figlia di egon e claudia è la nuova direttrice della centrale nucleare che al suo primo giorno deve gestire quella che sembra la chiusura di un rapporto clandestino con tronte cioè il padre di ulrich e uno scontro con il suo predecessore alla guida della fabbrica bernard doppler quest'ultimo le rivela che in una delle grotte adiacenti alla fabbrica è stata accumulata la quantità diciamo eccessiva di barili di scorie nucleari che sono un bel problema intanto nel presente jonah si inizia a indagare a sua volta sulle grotte ignorando che lo straniero figo lo sta sorvegliando che gli fornisce anche alcune dritte in gran segreto charlotte oltre alla figlia francisca che sta iniziando una relazione con magnus ha una figlia minore sordo muta elisabeth che un giorno non torna a casa dopo la scuola e ovviamente questa cosa getta nel panico alla famiglia considerate le sparizioni di bambini che stanno avvenendo solo che poi ritorna a casa come se nulla fosse dicendo di essere stata in compagnia di un uomo chiamato noah che afferma di conoscerla e che le ha donato un orologio che un tempo apparteneva proprio a charlotte il giorno dopo un misterioso figuro avvicina yasin un ragazzino amico di elisabeth dicendogli di essere stato mandato lì da noah eppure questo ragazzino scompare nel nulla a questo punto il fantomatico noah diventa il sospettato principale di tutti questi rapimenti ed effettivamente sembra che sia molto addentro a questa storia infatti lo vediamo andare a trovare michael in ospedale nel 1986 e qui scopriamo che noah è un prete mentre nel 2019 bartosh usando il cellulare dello spacciatore scomparso per contattare il suo fornitore finisce invece per entrare in contatto con noah che peraltro non è invecchiato di un giorno bartosh sta prendendo questa brutta china perché marta sembra volerlo lasciare dopo la scomparsa del fratellino ma in realtà è perché si sta riavvicinando a jonas quest'ultimo riceve un pacco dallo straniero figo contenente una torcia avveniristica e un contatore geiger per muoversi correttamente all'interno delle caverne e la famigerata lettera da dio di suo padre michael e cosa contiene quella lettera contiene la storia del piccolo michael che finì per viaggiare indietro nel tempo e non riuscì più a tornare a casa quindi venne adottato dall'infermiera ines conobbe la giovane anna della quale si innamorò finirono per sposarsi e crebbe diventando michael canwald in pratica michael è il padre di jonas e come se la faccenda non fosse già abbastanza complicata adesso jonas ha dei problemi con marta questo perché se quello che dice la lettera è vero marta sarebbe praticamente sua zia e quindi questa cosa non si può fare anna sta cercando di restare vicina a ulrich che però è devastato dalla scomparsa di suo figlio quindi ovviamente ha scelto di stare di più con sua moglie catarina e vuole troncare con lei anna è sempre stata ossessionata da ulrich fin dai tempi della scuola infatti la vediamo nel 1986 sorprendere ulrich e catarina a fare sesso durante la pausa fra le elezioni e andare a denunciarlo alla polizia accusandolo di violenza sessuale ai danni della fidanzata così igon fa arrestare ulrich anche se poi dovrà scagionarlo quando catarina farà presente che in realtà era tutto consensuale la coppia si convince che sia stata regina a denunciarli perché la considerano un po la bigotta del paese e la aggrediscono ma vengono fermati da questo tizio improvvisamente comparso armato di pistola che è niente proprio di meno che alexander il futuro marito di regina e il futuro successore di claudia alla guida della centrale nucleare e che è appena arrivato a winden probabilmente per motivi loschi perché ha dei documenti nascosti nel bosco dai quali scopriamo che il suo vero nome non è alexander kohler bensì boris newwald e adesso capiamo perché alexander kohler in futuro si farà chiamare con il cognome della moglie cioè tiderman perché vuole evitare che il suo cognome circoli un po troppo perché dietro c'è qualcosa di losco peccato che anna scopre i suoi documenti nascosti e scelga di conservare queste prove per 33 anni fino a quando nel 2019 sceglierà di usarle contro di lui per ricattarlo svelerà il suo segreto se lui non utilizzerà il suo potere per distruggere ulrich colpevole di averla lasciata e come può alexander intervenire beh ad esempio perché ha un uomo infiltrato nella centrale di polizia per tutte le evenienze il signor torben waller un povero agente con una benda perenne sull'occhio della quale peraltro non sapremo mai le origini grazie a una conversazione con sua madre ulrich si rende conto di un dettaglio il cadavere del bambino ritrovato il giorno dopo la sparizione di suo figlio ha un taglietto sul mento molto riconoscibile quello è suo fratello mads che non è invecchiato di un giorno dalla sua sparizione avvenuta nel 1986 così ulrich va a parlare con l'ultima persona che aveva visto suo fratello vivo cioè regina ed emergono i vecchi rancori considerato qual era il rapporto tra di loro da giovani regina fa così scoprire a ulrich che non era stata lei a denunciarlo per violenza alla polizia bensì anna quindi ulrich piomba da lei intimandole di lasciarlo in pace come se non bastasse anche catarina ha scoperto della loro relazione e adesso ce l'ha a morte pure lei con anna jonas sceglie di scoprire se ciò che ha letto nella lettera è vero e utilizza la strumentazione fornita gli dallo straniero figo per addentrarsi nelle caverne raggiunge una porta di metallo sulla quale è incisa la scritta sic mundus creatus est che in latino vuol dire così fu creato il mondo appena varcata la soglia viene colpito da un vento fortissimo le luci della città ricominciano a impazzire uccelli morti cadono dal cielo e capiamo che queste sono tutte testimonianze del fatto che si stia svolgendo un viaggio nel tempo arrivato in fondo al tunnel jonas trova un sceglie di dirigersi a destra e si ritrova pure lui nel 1986 arrivato all'ospedale vede michael in compagnia della giovane anna e qui interviene lo straniero figo che gli fa notare che se dovesse riportare michael nel 2019 gli impedirebbe di crescere nel passato di sposare sua madre di diventare suo padre quindi jonas smetterebbe di esistere deve lasciare che le cose procedano così e voglio dire jonas impedire l'incontro dei tuoi futuri genitori farà sì che tu non esisterai mai ritorno al futuro non l'hai visto è la base dei paradossi temporali vi ricordate di helge doppler il suocero di charlotte ecco lui nel 1986 lavora alla centrale nucleare come inserviente infatti il suo cognome doppler è quello dell'ex proprietario della centrale nucleare che evidentemente ha scelto di non lasciare l'azienda a suo figlio ma di affidarla invece a claudia egon interroga helge in merito alla sparizione di matt nielsen perché non gli quadra tanto il fatto che proprio quella sera helge avesse scelto un altro tragitto per tornare a casa non riuscirà a porgli ulteriori domande ma i suoi appunti verranno consultati da ulrich nel 2019 che quindi inizia a sua volta a sospettare di helge solo che quando lo va a interrogare nella casa di riposo nella quale vive lo aggredisce in maniera eccessiva e viene sospeso dal servizio anche charlotte inizia a temere che il suo suocero centri qualcosa quando esplora la sua vecchia casa e trova un piccolo bunker inutilizzato nel quale rinviene un pezzo della carta da parati che conosciamo molto bene e che ci suggerisce come quel bunker negli anni 80 fosse la temibile sala delle torture e a questo punto diventa palese che helge e noah lavorino insieme rapendo i ragazzini e usandoli come cavie fin dagli anni 80 per questa sedia che è un prototipo di macchina del tempo che evidentemente non funziona ed è per questo che poi i corpi dei ragazzini vengono sbalzati in epoche differenti helge vive tutta questa vicenda con profonda apprezzione sembra obbligato dalla forte carica persuasiva di noah che cerca di tranquillizzarlo dicendogli che stanno eseguendo il volere di dio dopo la visita del poliziotto helge fugge di nuovo per ritornare nelle caverne ma ulric decide di seguirlo una volta arrivato al famigerato bivio ulric invece di andare a destra come tutti gli altri sceglie di andare a sinistra così non torna indietro di 33 anni torna indietro di 66 anni finendo nel novembre del 1953 questo è l'anno nel quale iniziano i lavori per la centrale nucleare di winden peccato che i suddetti lavori vengano fermati subito dal ritrovamento dei corpi di due ragazzini con gli occhi bruciati che a questo punto sappiamo essere uno eric e l'altro jasin e di questo caso si occupa il giovane egon tiderman che qui è ancora un agente semplice ulric si rende conto di quello che gli è accaduto soltanto quando incontra per strada agnes nielsen cioè la sua futura nonna che si è appena trasferita in città insieme al figlioletto tronte che diventerà come sappiamo il padre del poliziotto questi due peraltro verranno ospitati proprio dalla famiglia tiderman e qui nascerà un'istantanea attrazione fra agnes e la moglie di egon doris e una discreta attrazione fra la giovane claudia e tronte cosa che come sappiamo si trasformerà poi in una relazione clandestina negli anni 80 ulric rintraccia finalmente helge che qui ovviamente è ancora un bambino e vedendo le cose che fa si convince sempre più della sua futura colpevolezza siccome ulric a differenza di jonas lo ha visto ritorno al futuro lo sa che modificando gli eventi del passato potrebbe cambiare la storia quindi vuole impedire il futuro rapimento di suo fratello di suo figlio di tutti gli altri bambini e abbatte a colpi di pietra il ragazzino poi trascina il corpo di helge nel vecchio bunker per nasconderlo e tenta di fuggire nelle caverne per tornare nella sua epoca ma viene arrestato da egon e comunque ulric non ha cambiato un bel niente perché helge è sopravvissuto semplicemente ulric gli ha provocato le vistose cicatrici che segneranno il suo volto da lì in poi comunque abbiamo messo da parte il fatto che l'anziano helge abbia a sua volta viaggiato nel tempo infatti lui è andato nel 1986 per parlare con se stesso e imporgli di smetterla di seguire noa che è un uomo crudele che lo sta manipolando ma noa ha ascendente troppo forte su di lui così tenta di usare le maniere forte e si schianta contro se stesso in automobile ma purtroppo a morire è proprio il vecchio helge mentre quello giovane sopravvive un personaggio che sembra secondario ma in realtà non lo è è l'orologiaio di winden h g tan house autore peraltro di un libro sui viaggi del tempo che ricompare molto spesso all'interno della nostra storia lo straniero figo si reca nel suo negozio nel 1986 e i due si mettono a parlare di buchi neri che secondo alcune teorie permetterebbe il viaggio nel tempo lo straniero afferma che esista un buco nero proprio a winden ed è quello che si trova nel tunnel delle caverne che permette di viaggiare nel tempo e chiede a tan house di riparare il suo marchigegno che gli permetterebbe di richiudere il buco nero e stoppare i viaggi temporali tan house si rifiuta di aiutarle lo manda via anche perché lui stesso conserva nei suoi negozi un marchigegno identico e perché tutto questo beh qui entra in scena un personaggio chiave una donna anziana che sembra stia tenendo traccia di tutta questa intricata vicenda scopriamo che è stata lei a recarsi da tan house nel 1953 per consegnargli i progetti per costruire il marchigegno che scopriamo essere una macchina del tempo portatile che permette di viaggiare solo di 33 anni nel passato nel futuro esattamente come fa il buco nero dentro il tunnel e la vediamo recarsi da bartosh nel 2019 rivelando la sua vera identità lei è l'anziana claudia tiderman che evidentemente diventerà un'esperta viaggiatrice del tempo lei rappresenta anche la notte del 4 novembre 2019 quando tutto è iniziato ed era in compagnia di peter doppler e di tronte nielsen che hanno assistito all'apparizione del cadavere del piccolo mads era questo il segreto che li metteva a disagio jonas non riesce a impedire a se stesso di sentirsi attratto da marta e quando bartosh scopre la cosa ci litiga furiosamente perché ovviamente si sente tradito sia dal suo miglior amico che dalla sua ragazza bartosh è ormai completamente asservito a noah che gli spiega come esistano due fazioni in lotta per il controllo dei viaggi nel tempo e che il vero nemico è proprio sua nonna claudia jonas sceglie di ritornare nel 1986 per riprendere michel e riportarlo a casa ma lo trova in compagnia di noah che era lì proprio per catturare jonas con l'aiuto di elghe e rinchiuderlo nel bunker sotterraneo qui viene ritrovato dallo straniero figo al quale chiede di liberarlo ma quest'ultimo non lo può fare jonas deve restare lì dentro perché questo evento innescherà una serie di altri eventi determinanti per entrambi dato che lo straniero è proprio jonas da adulto infatti si è appena recato di nuovo da townhouse e usando un piccolo campione di cesio un isotopo radioattivo ha riattivato la macchina dell'orologiaio e ha scelto di prenderla con sé per compiere la sua missione si infila nel tunnel temporale e attiva la macchina di townhouse in corrispondenza del bivio per chiudere il buco nero faccio notare che il bivio si trova esattamente sotto il bunker ecco perché noah aveva piazzato la sedia a viaggio nel tempo lì dentro per i suoi esperimenti e infatti in quell'istante jonas nel 1986 e elghe nel 1953 riescono a vedersi tramite una sovrapposizione di piani temporali e nell'esatto istante in cui i due si sfiorano boom elghe finisce nel 1986 mentre jonas viene scaraventato anche lui nel bunker di un'altra epoca solo che non è nessuna di quelle che abbiamo già visto perché appena jonas esce all'aria aperta si ritrova in una winden distrutta e post atomica e questo perché questa volta è finito 33 anni nel futuro nell'anno 2052 jonas è bloccato nel futuro quindi deve muoversi in questa ambientazione devastata e fare i conti con la leader della resistenza armata una ferocissima donna completamente muta che riconosciamo essere l'adulta elisabeth doppler la donna impedisce a tutti l'accesso alla cosiddetta zona morta dalla quale si è generato un apocalisse che scopriamo essere avvenuta il 27 giugno del 2020 l'epicentro del disastro ovviamente è la centrale nucleare nella quale è vietato entrare ma jonas si informa grazie ai nastri lasciati dall'anziana claudia lui vive nel vecchio bunker che lei chiaramente ha utilizzato come quartiere generale e riesce così ad accedere ai resti della centrale scopre che dentro la centrale c'è un inquietante creatura a forma di blob che volteggia al centro di un redattore e che è il probabile responsabile della cosiddetta apocalisse e il problema è che nel presente mancano soltanto sei giorni alla sopraccitata apocalisse già perché nella seconda stagione ci siamo spostati un pochettino avanti nel tempo di conseguenza tutte le epoche si sono spostate avanti non siamo più nel 2019 ma siamo nel 2020 non siamo più nel 1986 ma nel 1987 e così via la città di winden ha visto sparire troppe persone compreso un membro di spicco delle forze dell'ordine come ulric così viene chiamato sul posto un nuovo detective clausen che dovrà collaborare con charlotte alla risoluzione del caso un dettaglio che scopriamo soltanto ora è che charlotte è stata adottata da bambina dall'orologiaio tan house che ha sempre considerato come se fosse suo nonno e un giorno mentre elisabeth e il padre cercano informazioni nel suo vecchio laboratorio trovano una foto che ritrae alcuni gentiluomini fra cui noa è una foto datata 8 gennaio 1921 marchiata dalla solita frase in latino sic mundus creatus est lo jonas adulto ha evidentemente fallito nel suo piano perché non è cambiato niente quindi si presenta a anna rivelandole di essere suo figlio in realtà una cosa l'ha fatta ha effettivamente chiuso il buco nero dentro il tunnel quindi le caverne non si possono più usare per i viaggi nel tempo e di conseguenza questo è il motivo per cui lo jonas giovane è bloccato nel futuro lui può continuare a viaggiare nel tempo usando la macchina portatile di tan house e accompagna anna nel 1987 per mostrarle che fine ha fatto michael e renderla finalmente consapevole dei viaggi nel tempo anche claudia inizia il suo indottrinamento quando nel 1987 viene avvicinata da se stessa anziana che le fa scoprire i viaggi nel tempo le fa capire che le scorie radioattive nelle caverne possano diventare la sua scorta di cesio la sostanza che attiva la macchina di tan house e le spiega che dovrà schierarsi contro l'organizzazione malvagia della quale fa parte noa poi la claudia anziana torna indietro fino a 1954 e seppellisce la sua macchina in modo che venga poi ritrovata dalla claudia dell'87 che potrà così iniziare a utilizzarla perché ha sepolto la macchina perché evidentemente la claudia anziana ha terminato tutto quello che doveva fare nel 1954 noa ha salvato il piccolo elghe dopo l'aggressione di uldrich e lo ha riportato a casa certo il ragazzino è sotto shock e orrendamente sfigurato quindi diventa ancora più chiuso e introverso ma lega tantissimo con noa e questo spiega perché poi diventerà suo succube per tutta la vita per riconoscenza agnes ha ormai intrapreso una vera e propria relazione con doris ma nasconde un altro segreto lei lavora per l'anziana claudia quest'ultima ha bisogno che agnes si infiltri nell'organizzazione di noa e le mostra un articolo di giornale che annuncia la morte dell'anziana donna che avverrà quello stesso giorno così agnes si reca a parlare con noa che scopriamo essere suo fratello e che è arrabbiato con lei perché la considera una traditrice della causa ma agnes confessa di volersi schierare con lui e lo mette al corrente di cosa accadrà a claudia perché l'anziana è in possesso delle ultime pagine mancanti di un diario che noa porta sempre con sé perché raccoglie tutti gli eventi chiave delle singole epoche gli permette così di mandare avanti il suo piano e scopriamo che noa in realtà non è come pensavamo il leader di questa organizzazione perché quel ruolo spetta al misterioso e sfigurato adam il vero acerrimo nemico di questa serie che vive reclusi in un gigantesco e inquietante quartiere generale noa può quindi finalmente affrontare claudia ma lei riesce a instillargli il dubbio di essere una semplice pedina al soldo del suo capo adam e così lui uccide la donna si impossessa delle pagine mancanti del diario e quando le legge ne resta sconvolto intanto la claudia degli anni 80 si fa insegnare ulteriori dettagli da town house e compie il suo primo viaggio nel tempo andando nel 2020 dove scopre che sua figlia regina ha il cancro ed è bruttissimo perché claudia ha sempre badato poco a sua figlia e adesso si rende conto di averla letteralmente lasciata sola per tutta la vita poi fa quello che faremo tutti se andassimo nel futuro c'è una bella ricerca internet per capire che cosa ci succederà ed è con enorme stupore che scopre che suo padre egon morirà proprio nel 1987 pochi giorni dopo questo salto temporale di claudia infatti egon nell'87 è andato in pensione ha scoperto di essere malato ma la cosa non gli impedisce di voler risolvere il mistero del piccolo matt nielsen e dei bambini che aveva trovato 30 anni prima quando nota che il testo di una canzone metal uscita l'anno prima contiene una frase che aveva pronunciato l'uomo da lui arrestato nel 53 decide di andare a trovare quest'ultimo il povero ulrich che è invecchiato all'interno di un ospedale psichiatrico e egon parlando ci inizia a capire che si tratta di qualcuno che sembra conoscere il futuro anzi egon finisce per sbloccargli un ricordo quando gli fa vedere una foto del piccolo michael dicendogli che è lì a winden nell'87 quindi ulrich impazzito evade di notte dall'ospedale si riunisce finalmente a suo figlio e tenta di fuggire con lui nelle grotte per tornare a casa ma viene nuovamente arrestato e il piano fallisce intanto nel 2020 tutti i giovani di winden iniziano a coalizzarsi per capire che cosa diavolo stia succedendo dato che gli adulti non parlano con loro così si infilano nelle caverne in cerca di spiegazioni e vi trovano bartosh che ormai sta lavorando per noa e al quale quest'ultimo ha affidato la macchina del tempo portatile così gli altri ragazzi lo immobilizzano e gli portano via la macchina ovviamente dettaglio noi vediamo un sacco di macchine portatili ma in realtà questa macchina è una sola che passa di proprietario in proprietario nel corso dei decenni se noi seguissimo questa storia in ordine cronologico potremmo vedere esattamente quando cambia di mano in mano in mano ma non lo faremo comunque i ragazzi testano la macchina fanno una rapida sortita nel 1987 per poi ritornare alla loro epoca sapendo adesso qualcosa di più intanto gli adulti stanno scendendo a patti con i viaggi nel tempo jonas e anna si uniscono a charlotte peter nel bunker per discutere il da farsi e qui jonas aggiorna tutti sull'organizzazione malvagia di adam e sul fatto che l'anziana claudia fosse l'unica che cercava di contrastarli decidono anche di aggiornare catarina che quindi in un colpo solo scopre che suo marito è prigioniero negli anni 50 e che suo figlio è prigioniero negli anni 80 che non è male intanto nel 2053 il giovane jonas ascolta tutto il materiale lasciato dall'anziana claudia e si rende conto che quel blob si chiama la particella di dio e può permettere di viaggiare nel tempo ma solo se adeguatamente stabilizzato allora cerca di recuperare il carburante necessario ma viene catturato dalla elisabeth adulta che vuole punirlo per avere disobbedito impiccandolo salvo poi decidere di risparmiarlo e lasciargli un'adorabile cicatrice sul collo che abbiamo visto poi nella sua versione adulta liberato dalla giovane cilia che è un po il braccio destro di elisabeth che è molto curiosa di vedere cosa ci sia nella zona morta jonas la porta con sé stabilizza finalmente il blob con il carburante decide di utilizzarlo per ritornare nella sua epoca peccato che le cose non vadano come si aspetta perché finisce un po troppo indietro del tempo il 21 giugno del 1921 accolto da alcuni contadini jonas viene subito avvicinato da un ragazzo inquietante che scopriamo essere il giovane noa che tra le altre cose sta collaborando frequentemente con la sua controparte adulta come se fossero dei parenti già perché il 1921 è proprio il momento nel quale è iniziata la costruzione del tunnel nelle caverne anche se diventerà attivo soltanto molti anni dopo e lo stesso noa è uno di coloro che scavarono talmente motivato da ammazzare il suo collega che sembrava avere dei dubbi sull'operazione e sempre nel 1921 si trova anche l'organizzazione sic mundus capitanata da adam che finalmente incontra jonas quest'ultimo ovviamente vorrebbe fermare i piani di adam ma resta scioccato quando scopre la reale identità del suo rivale adam è jonas da vecchio e questo è decisamente un bel plot twist a questo punto per jonas è difficile combattere contro se stesso e adam gli racconta come la sua associazione sia nata con lo scopo di sconfiggere dio e il tempo privando gli esseri umani del dolore che lo scorrere del tempo arrecca nelle loro vite poi mostra jonas di essere in possesso di un'altra particella di dio creata proprio perfezionando quella macchina del tempo che noa per anni ha sperimentato nel bunker usando i ragazzini come cavie e che adesso permette di viaggiare ovunque nel tempo e non soltanto di 33 anni nel passato nel futuro adam dice a jonas che soltanto con il suo aiuto potrà concludere tutto rispedendolo indietro nel tempo fino al 20 giugno del 2019 il giorno prima della morte di suo padre michael per impedire che lui si tolga la vita e arrestare la catena di eventi che condurrà l'apocalisse jonas accetta questo compito si immerge nel blob e ritorna indietro a quella che fino a quel momento era stata l'estate più bella della sua vita jonas e marta quel giorno erano al lago sembravano ormai lasciare sbocciare la loro nascente storia d'amore ma poi jonas si era dovuto assentare per andare a trovare sua nonna e così lo jonas giunto dal futuro decide di correggere quest'errore del suo passato ripresentandosi a marta ribadendo che loro sono fatti l'uno per l'altra e nessuno potrà dire il contrario e baciandola appassionatamente dopo jonas si reca finalmente a rivedere suo padre approfittando del fatto che quella sera tutti fossero a casa di ulrich e catarina per il loro anniversario di matrimonio tra l'altro questa è proprio la sera in cui scoppierà la passione fra ulrich e anna michael ha scelto di restare a casa perché ovviamente si sente a disagio nel rivedere se stesso da piccolo in michael e resta sconvolto quando si trova faccia a faccia con uno jonas che sa tutto jonas gli rivela di essere lì per impedirgli di togliersi la vita ma michael a sorpresa gli dice che lui non ha nessuna intenzione di farlo e quando jonas gli chiede perché lui avesse deciso di fuggire nelle grotte la notte nella quale ha sparito michael gli confessa che era stato proprio jonas a portarlo dentro le caverne ma è impossibile perché jonas sa di non averlo fatto a questo punto interviene l'anziana claudia a spiegare tutto e sì lo so che abbiamo visto morire l'anziana claudia ma ovviamente questo evento si sta svolgendo prima della sua morte è tutto raccontato in paradossi statevi vicino è difficile lo so ce la possiamo fare claudia rivela jonas che adam lo ha ingannato lo ha mandato lì per provocare la morte di suo padre a fare andare le cose come sono sempre andate jonas dovrà affrontare adam ma prima dovrà lasciare che tutto si svolga nel modo che sa bene quindi michael capisce di dover morire per innescare tutto questo e proprio la lettera che gli lascia jonas sarà quella che poi lui utilizzerà per spiegarsi e jonas adesso sa di doversi recare nel novembre del 2019 a prendere piccolo michael farlo entrare nelle grotte mandarlo nel passato e innescare tutta la storia nel 2020 intanto anna non si è ancora liberata dell'ossessione nei confronti di ulrich e decide di rubare la macchina del tempo di suo figlio per tornare nel 1954 e andare a riprendersi il suo amato si presenta a egon con il nome di katarina tiderman spacciandosi come la moglie del prigioniero e riesce ad avere un colloquio con lui per il riconoscimento ma poi si ricorda di quando lui la rifiutò e del fatto che lei in realtà stia cercando di vendicarsi perché lui non l'ha mai amata e decide di abbandonarlo al suo destino nell'epoca sbagliata dove come abbiamo visto finirà per restare prigioniero a vita e invecchiare fra prigione e ospedale psichiatrici e già che c'è anna non trova cosa più carina che iniziare una relazione con il giovane egon che sta soffrendo per l'ormai palese tradimento di sua moglie con agnes dopo il suo primo viaggio nel futuro claudia ritorna nel 1987 e cerca di riavvicinarsi un po di più a suo padre per impedirne la morte che ha visto ma tutto quello che ottiene è fargli capire di essere coinvolta in questa incredibile vicenda quindi finiscono per litigare egon cade e muore esattamente come diceva l'articolo solo che per mano della sua stessa figlia ad aiutarla interverrà lo jonas che nel frattempo ha trascorso un po di mesi con la claudia anziana e che adesso ricambierà il favore addestrando la claudia più giovane arriva il famigerato giorno dell'apocalisse marta si reca a casa di jonas e ci trova la sua controparte adulta scoprendo finalmente la sua identità siccome lui l'ha convinta che sono fatti l'uno per l'altra a lei onestamente non dispiace tanto questa versione da straniero figo ma sua madre catarina irrompe in casa e le rivela il dettaglio della loro parentela che lei non conosce sei sua zia non è il caso e cerca di separarli noa decide che è il momento di imporsi quindi si presenta a charlotte rivelandole quello che ha scoperto nelle ultime pagine strappate del diario lei è sua figlia lui ha portato avanti tutto il piano dei rapimenti dei ragazzini per evitare di doverla perdere di nuovo ma non rivela alla donna chi sia sua madre solo che noi ci possiamo arrivare perché nel 2053 vediamo elisabeth coccolare teneramente la foto che la vede giovane in compagnia di noa e di una bambina quindi elisabeth e noa si metteranno insieme avranno una figlia che è charlotte che a un certo punto nel futuro come vedremo verrà presa e portata indietro nel tempo affidata all'orologiaio tan house che la crescerà lei diventerà grande si sposerà con peter e i due avranno come figlia elisabeth quindi elisabeth è la madre di charlotte ma è anche sua figlia è un albero genealogico in loop poi noa rivela a charlotte che soltanto nascondendosi dentro al bunker potranno salvarsi dall'apocalisse imminente anche lo jonas adulto vuole salvare marta e la porta nel bunker per proteggerla solo che lei riesce a fuggire quando l'intera famiglia doppler si rifugia lì dentro lo jonas che sta lavorando con claudia ha un obiettivo specifico riaprire il buco nero nelle caverne che il se stesso adulto aveva chiuso e riesce nella sua impresa così adesso la gente potrà tornare ad andare avanti indietro nel tempo utilizzando le caverne come catarina che parte per andare a recuperare suo marito e suo figlio poi jonas lascia claudia libera di andare avanti con la sua vita e lei raggiunge regina nel 2020 portandola con sé nel bunker già abbastanza affollato per salvarla dall'apocalisse ma scusate arrivati a questo punto questa apocalisse che dovrebbe distruggere tutto esattamente come si genera vi ricordate il detective clausen chiamato a indagare sulle sparizioni ecco lui ha iniziato a dare addosso ad alexander perché sa che sta utilizzando da anni una falsa identità e sapete perché lo sa perché alexander caller era il nome del fratello di clausen scomparso 30 anni prima quindi ecco a chi era stata rubata l'identità che alexander sta usando dall'86 quindi clausen può far arrestare alexander e fare perquisire la sua fabbrica siccome alcuni mesi prima alexander aveva spostato tutti i barivi dei residui radioattivi per seppellirli sotto una colata di cemento nella vasca di raffreddamento del vecchio reattore adesso la polizia vuole trapanare per tirare fuori le prove ed è proprio questo l'evento che provocherà il disastro nucleare l'apocalisse nel 1921 noa si presenta di fronte a adam dicendo di avere letto le pagine mancanti del diario ed avere capito di essere stato solo manipolato quindi cerca di uccidere adam ma non ci riesce perché ovviamente il suo capo è sempre un passo avanti a tutti e utilizza proprio agnes per assassinare il suo stesso fratello la cosa bella di questa serie è che se un personaggio muore ci sono almeno altre due versioni dello stesso personaggio ancora attive per portare avanti la trama infatti il giovane noa è pronto per iniziare il suo vagabondare nel tempo e si recca nel 2020 per consegnare allo jonas adulto una lettera firmata da marta per instradarlo su chi dovrà salvare dall'apocalisse e infatti jonas dopo aver letto la lettera raduna bartosh magnus e francisca e utilizza la macchina del tempo per portarli altrove in tutto questo marta è tornata a casa di jonas incontrandola finalmente la sua versione giovane ma proprio quando finiscono per riunirsi vengono interrotti da adam che è giunto fin lì per compiere un unico gesto uccidere la ragazza perché questa morte servirà a distruggere emotivamente jonas e fargli intraprendere il cammino che poi lo trasformerà in adam charlotte rompe nella centrale nucleare cercando di impedire la riesumazione delle scorie perché ormai è chiaro a tutti noi compresi che proprio da quelle scorie nascerà la particella di dio che abbiamo visto nel futuro che innescherà l'apocalisse e infatti ecco che la materia radioattiva inizia a generare quella mostruosità nell'esatto istante in cui la particella viene stabilizzata sia nel 1921 che nel 2053 questo evento su più piani temporali crea un altro varco fra due epoche come quello che abbiamo visto avvenire nella scorsa stagione nel quale charlotte e sua figlia in versione adulta si vedono per la prima volta l'apocalisse si scatena e solo coloro che si sono rifugiati nel bunker sembrano poter sopravvivere anche il giovane noah ha raggiunto la salvezza giusto in tempo per incontrare per la prima volta elisabeth jonas è distrutto e perduto dopo la morte della sua amata e di colpo si ritrova faccia a faccia con un'altra marta che sembra molto più determinata con un taglio di capelli molto più aggressivo e una versione moderna della macchina del tempo portatile questo perché lei non viene da un'altra epoca viene da una realtà alternativa e certo non bastavano cinque epoche in cui raccapezzarsi adesso ci mettiamo anche il multiverso per la prossima stagione perfetto marta usa la sua macchina per volatilizzarsi con jonas prima che l'apocalisse distrugga tutto la nuova marta porta in salvo jonas nel suo mondo quello alternativo e prima di abbandonarlo gli garantisce che farà di tutto per risistemare le cose dato che i loro mondi sono interconnessi questo mondo alternativo è molto simile a quello che abbiamo visto nelle prime due stagioni solo che qui la protagonista è marta non jonas infatti marta vive nella casa che apparteneva a jonas nell'altro mondo solo che qui è tutto speculare la casa è letteralmente al contrario e vive con la madre catarina e i fratelli magnus e michel manca ulrich che in questo mondo ha divorziato da catarina e vive con anna che è incinta entrambi i mondi però hanno degli elementi in comune esempio anche qui ulrich è un fedifrago perché ha una relazione extraconiugale con charlotte doppler magnus è molto più metal e anche qui è fidanzato con francisca che però è la figlia sordomuta mentre elisabeth parla tranquillamente è un dettaglio che mi fa ferita all'occhio ma in compenso gli manca un braccio e anche in questo caso non verrà mai spiegato il perché jonas rintraccia marta al liceo ma lei non sembra riconoscerlo infatti non è lei la marta che lo ha salvato non sa chi lui sia e siccome siamo al 4 novembre del 2019 ecco che sta per ripetersi anche in questo mondo la serata alle caverne del gruppetto di amici che esattamente come nell'altro mondo vedranno apparire il corpo del piccolo matt nielsen arrivato direttamente dall'86 solo che jonas si rende conto che in questo mondo michael non è mai tornato indietro nel tempo perché non era con i suoi fratelli quella sera e di conseguenza non è mai diventato il padre di jonas ecco perché jonas in questo mondo non esiste e la cosa gli viene confermata da una misteriosa donna che gli preannuncia che anche questo mondo è destinato a morire in un apocalisse proprio come il suo ovviamente questa donna è marta da vecchia ed è l'equivalente di adam in questo mondo così viene chiamata eva e difatti da questo momento noi distingueremo i due mondi chiamandoli mondo di adam e mondo di eva invece la marta che ha salvato jonas ha viaggiato indietro nel tempo nel mondo di adam fino al 21 settembre del 1888 perché lì impegnato in esperimenti alla nikola tesla c'è lo jonas adulto che è finito in quell'epoca insieme a bartosh margius e francisca quando lui ha cercato di salvarli dall'apocalisse jonas capisce che questa non è la sua marta e al dubbio che sia stata proprio lei a scrivergli la lettera che lo ha fatto agire e che lo ha fatto finire lì jonas sta cercando di ricostruire la macchina del tempo per poter tornare a casa e per farlo si è associato a gustav tanhaus antenato dell'orologiaio nonché ultimo membro rimasto dell'originale associazione sic mundus già perché questo luogo è quello che poi dal 1921 diventerà il quartiere generale di adam e della sua organizzazione il problema è che questa marta sembra lì solo per accendere scintille dato che è lei a rivelare a bartosh che jonas è destinato a diventare adam e questo distruggerà gli equilibri del gruppo marta sembra voler guadagnare la fiducia di jonas fornendogli l'ultimo campione di cesio rimastole per tentare di avviare il suo prototipo di macchina del tempo e jonas quasi ci riesce ma poi la cosa fallisce e si rende conto che marta lo ha ingannato perché in realtà aveva molti campioni di cesio ed è fuggita lasciando il bloccato lì e sapete perché perché questa marta lavora per adam che ha riunito tutti gli ultimi membri rimasti della sic mundus nel 2053 per risolvere una volta per tutte questo gigantesco casino e vi faccio notare che la sic mundus è attualmente composta da jonas magnus e francisca quindi mi viene da pensare che la genesi di questa band di cattivi stia avvenendo proprio a partire dal gruppo bloccato nel 1888 in questa stagione c'è un nuovo personaggio ed è un inquietante individuo che si aggira in compagnia del se stesso bambino e del se stesso vecchio capiamo che sono la stessa persona dal fatto che abbiano tutti il labbro leporino e viaggiano nel tempo per uccidere alcuni personaggi secondari lungo le epoche del mondo di adam come se dovessero tagliare alcuni rami secchi narrativi ma in realtà hanno un obiettivo pure loro vi ricordate che nel mondo di adam catarina aveva deciso di utilizzare il riaperto tunnel temporale delle caverne per andare a riprendersi la sua famiglia ecco la ritroviamo nel 1987 mentre scopre che suo figlio è stato messo sotto protezione dopo che un folle ha cercato di rapirlo e scopre che il folle è suo marito ulrich invecchiato e rinchiuso nell'ospedale psichiatrico e un po mi dispiace che catarina non abbia avuto nessuno a consigliarla perché se ci fosse stato probabilmente l'avrebbero mandata indietro negli anni 50 così poteva tentare di salvare suo marito quando era ancora giovane catarina promette a ulrich di liberarlo e scopre che a guardia del reparto c'è sua madre così la donna simula una rapina pur di impossessarsi del suo badge personale poter accedere per liberare consorte ma tra le due donne nasce una collutazione e catarina muore uccisa dalla sua stessa madre inconsapevole ed è un dettaglio che rende i loro litigi negli anni 80 decisamente più inquietanti sempre nel mondo di adam ma all'indomani dell'apocalisse nel 2020 peter si aggira con sua figlia elisabeth alla ricerca di charlotte che però per colpa del varco temporale nella centrale è stata sbalzata nel futuro in compagnia della sua futura figlia e futura madre purtroppo il post catastrofe ha trasformato tutto in uno scenario pericolosissimo ed elisabeth rischia la vita quando un tizio cerca di fare del male ma finisce per ribellarsi e assassinarlo non riuscendo però a salvare il povero paparino peter così lei alla fine unisce le forze con il giovane noa ed è evidentemente qui che inizia a sbocciare la loro relazione anche claudia tiderman è sopravvissuta all'apocalisse e sta iniziando a utilizzare il bunker per appuntarsi tutto quello che sta accadendo e noi sappiamo che così facendo lo trasformerà nel suo quartiere generale negli anni a venire ha portato con sé regina ormai molto malata che però all'improvviso apparentemente senza motivo viene uccisa da tronte il padre di ulrich perché qualcuno gli ha detto di farlo eppure questo è completamente inaspettato a meno che il nostro sospetto è che tronte fosse il padre di regina per via della relazione che avevano avuto loro due ma non è detto comunque non avrebbe senso jonas fa una lunga conversazione con eva che rende palese come loro due siano sempre interconnessi e che jonas sia stato portato in questo mondo alternativo per salvarlo dall'apocalisse ma dovrà coinvolgere anche la marta alternativa per farlo in realtà come tutti i super cattivi di questa serie anche eva sembra non avere detto esattamente tutto perché il misterioso assassino unettrino con labbro leporino sembra lavorare per lei così jonas ritorna nel mondo di eva e convince marta a seguirlo nelle caverne la porta con sé nel futuro del mondo di eva dove evidentemente l'apocalisse c'è stata perché tutto ridotto a un deserto senza vita qui marta deve incontrare una se stessa adulta che porta entrambi nel suo rifugio e le fa capire che sì l'apocalisse distruggerà anche il suo mondo ma eva ha mentito a jonas perché non è possibile salvare entrambi i mondi uno dei due andrà sacrificato per marta è durissimo accettare tutto questo quindi i due ritornano nel 2019 dove finiscono finalmente per andare a letto insieme ma certo a questo punto un rapporto fra consanguinei che cosa mai potrebbe generare cosa potrebbe generare lo scopriamo nel 2053 del mondo di adam dove marta prima ha un confronto con suo fratello che ha capito che la sua fuga nel 1888 dopo averle aiutati praticamente a generare la materia oscura era un ordine diretto di adam e quindi la perdona e poi ha un colloquio con adam che finalmente ha capito quale sia l'origine di tutto questo delirio e come distruggerla e purtroppo marta è intimamente coinvolta perché marta è incinta il rapporto avuto con jonas porterà alla nascita di un figlio che è proprio l'individuo con labbro leporino che poi intraprenderà una relazione con agnes e i due daranno alla luce tronte creando praticamente sia il ramo della famiglia di jonas sia il ramo della famiglia di marta marta e jonas sono i due capostibiti che creano praticamente l'albero genealogico che coinvolge tutti i personaggi nel 1954 nel mondo di adam anna ha intrapreso una relazione con i giovani egon fino a quando uno scopre di essere rimasta incinta giusto per non complicare ulteriormente questo delirio di albero genealogico lei vorrebbe abortire ma poi sceglie di cambiare idea e di fuggire lasciandosi dietro il povero egon che oltretutto sta pure perdendo sua moglie doris ormai perdutamente innamorata di agnes e preoccupata per la sua sparizione quindi la sua vita prende una piega molto triste che lo trasformerà nell'uomo solo e amareggiato che abbiamo conosciuto negli anni 80 intanto nel mondo di eva jonas e marta cercano di introdursi nella centrale nucleare per impedire che vengano riesumate le scorie e si scateni l'apocalisse come nell'altro mondo ma marta si graffia attraversando la recinzione provocandosi proprio la piccola ferita all'occhio che esibisce la sua versione che lavora per adam quindi jonas si rende conto che non stanno cambiando un bel niente stanno seguendo per l'ennesima volta un percorso già prestabilito così i due ritornano da eva per avere delle spiegazioni e lei confesserà di avere mentito lei vuole conservare questo loop perenne e l'unico motivo per cui jonas è stato portato nel mondo di eva era quello di mettere incinta marta e dare inizio a tutto quanto quindi adesso ormai non serve più difatti eva introduce sia la marta adulta che un'altra marta che non riconosciamo perché ha una profonda ferita sulla faccia e sarà proprio quest'ultima a sparare a jonas uccidendolo anche questo è un evento speculare all'omicidio di marta per mano di adam avvenuto nell'altro mondo non fa un altro che ripercorrere lo stesso pattern però noi abbiamo visto jonas diventare adulto e poi vecchio quindi come fa a essere morto qui sarà eva a spiegarlo alla marta che ha appena ucciso jonas dopo averle fatto scrivere la lettera che poi il giovane noa consegnerà allo jonas adulto il giorno dell'apocalisse per dirgli di accettare i sacrifici come quello della sua morte per salvare entrambi vedete il giorno dell'apocalisse è un evento talmente devastante da creare quello che viene definita una correlazione quantistica dove si generano varie linee temporali a seconda delle azioni compiute quindi c'è una linea temporale che è quella che abbiamo visto finora dove jonas viene salvato da marta viene portato nel mondo di eva e poi c'è un'altra linea temporale dove jonas non viene salvato da marta si salva da solo sopravvive all'apocalisse e poi intraprende il percorso che lo renderà lo jonas adulto che abbiamo visto la marta del mondo di eva ancora scioccata dopo la morte di jonas decide che è ora di intervenire si tagli i capelli diventando ufficialmente la marta battagliera che abbiamo già visto e unisce le forze con bartosh per impedire che avvenga l'apocalisse cosa ormai inevitabile perché anche in questo mondo alexander tiderman ha commesso un sacco di magheggi criminali nella sua vita e sta per riesumare le scorie radioattive innescando l'apocalisse solo che mentre i due cercano di raggiungere la centrale nucleare vengono fermati dalle versioni adulte di magnus e francisca che convincono marta a smetterla di fidarsi di eva e di unirsi a loro che lavorano con jonas perché lui sa cosa fare e quindi questo è il momento in cui marta accetta di iniziare a lavorare per adam e la prima cosa che fa come abbiamo visto è tornare al giorno dell'apocalisse nel mondo di adam salvare jonas e portarlo nel suo mondo purtroppo come sappiamo questa marta viene poi ingannata da adam che vuole generare soltanto un'enorme oscurità che inghiotta tutto perché è l'unico paradiso che concepisce e ora ha finalmente mosso tutte le pedine per compiere il gesto finale le tre versioni diverse del figlio di jonas e marta compiono finalmente la loro missione andando in due punti diversi nella storia dei due mondi per innescare in entrambi l'incidente che anni dopo provocherà l'apocalisse così adesso che sta avvenendo l'apocalisse anche nel mondo di eva adam convoglia le energie di entrambe le apocalissi nello stesso punto colpendo marta per distruggere lei e il suo momento con le sue pedine per tentare di conservare i due mondi prima di tutto eva manda il bartosh adulto a salvare se stesso più giovane nel mondo di eva e poi questo bartosh più giovane viene mandato il giorno dell'apocalisse per impedire che marta vada a salvare jonas vi ricordate no che questo momento nella storia è quello che ti permette di creare varie linee temporali divergenti quindi quella che vediamo adesso è la linea nella quale marta non interviene per salvare jonas bartosh conduce questa marta al cospetto di eva che la sfigura con un coltello le fa conoscere il suo stesso figlio che lei ancora sta concependo e le fa capire che solo seguendo la sua volontà di preservare questo lupo potrà salvare suo figlio ed è per questo motivo che questa marta verrà poi portata al cospetto di se stesse di jonas per ucciderlo e chiudere anche questo paradosso intanto il gruppo confinato a inizio secolo nel mondo di adam ha visto sempre più crescere i conflitti interni e nel 1911 arriva in quell'epoca anche anna con la figlia avuta da egon per anna è uno shock scoprire che suo figlio jonas si sta lentamente trasformando in adam per via dei costanti esperimenti sulla sua macchina del tempo che lo stanno sfigurando sempre di più anna rivela di avere scoperto che suo figlio era finito in quell'epoca grazie al suggerimento di una certa eva e jonas ormai sa benissimo che eva è colei che intende ostacolarlo quindi si sbarazza di sua madre senza nessuna esitazione poi prende la sua piccola sorellastra e la porta nel futuro sì perché la sorellastra è silvia ve la ricordate il braccio destro di elisabeth quella che aveva aiutato jonas e adesso capiamo perché nello stabilizzare la particella di dio poi una volta diventata matura e asservita completamente a adam silvia viene rispedita indietro fino a 1890 per farle accidentalmente incontrare bartosh e farli innamorare questi due diventeranno poi i genitori di due bambini che saranno noah e agnes e a questo punto possiamo anche intuire che l'uomo che il giovane noah uccise durante la costruzione del tunnel era proprio bartosh perché in questa serie c'è una quantità esorbitante di omicidi fra genitori e figli a questo punto sappiamo che noah intraprenderà una relazione con elisabeth a partire dal 2020 dopo la catastrofe resteranno insieme nelle caverne di winden dove scopriranno che il buco nero è stato chiuso e poi si uniranno ai claudia e ionas sopravvissuti all'apocalisse all'interno della centrale perché solo ricreando e stabilizzando la particella di dio sarà possibile viaggiare nuovamente nel tempo e sistemare quello che loro ritengono sia andato storto lavoreranno lì dentro per decenni invecchiando e diventando le loro versioni adulte che ormai abbiamo imparato a conoscere e riescono a compiere la loro impresa nonostante i rapporti fra di loro non siano sereni perché ormai ovviamente nessuno si fida più di nessuno è proprio in questo periodo ad esempio che claudia comincerà ionas a tornare indietro nel tempo per cercare di spezzare il ciclo facendo tutto quello che gli abbiamo visto fare nella prima stagione anche se poi fallirà ma almeno noah a elisabeth sono felici al punto da diventare poi genitori della piccola charlotte peccato che proprio in questo periodo la charlotte adulta in compagnia di elisabeth raggiungano quest'epoca rapiscano la piccola charlotte per portarla nel 1971 e affidarla all'orologiaio townhouse che secondo loro garantirà una vita più sicura ovviamente noah non lo sa che abbia rapito sua figlia e sospetta persino di jonas così decide di abbandonarle di tornare nel 1921 dove si unirà ad adam che gli mentirà dicendogli che è stata claudia a rapire sua figlia e che soltanto recuperando le pagine mancanti del diario saprà dove ritrovare la sua amata figlioletta e quindi è chiaro perché noah sia stato succube di adam per il resto della sua vita ed è anche chiaro adesso perché una volta recuperate le pagine mancanti e scoperto che charlotte era sua figlia si sia sentito tradito da adam ma torniamo finalmente al momento in cui adam sembra aver compiuto la sua grande impresa distruggendo marta era convinto che si sarebbe tipo dissolto nel nulla che la sua missione si sarebbe compiuta ma poi scopre che non è così e a spiegargli che cosa ha sbagliato ci penserà l'anziana claudia sì perché claudia ha un segreto tenuto nascosto praticamente a tutti e adesso è arrivato il momento di svelarlo vi ricordate quando morì sua figlia regina nel 2020 giusto ecco subito dopo quell'evento claudia incontrò la se stessa alternativa proveniente dal mondo di eva ed è quest'ultima a raccontarle delle due fazioni in lotta quella di adam votata alla distruzione quella di eva votata alla conservazione chiedendole di unirsi a lei per portare avanti il piano di eva e consegnandole il famigerato diario da quel momento claudia ha portato avanti tutto quello che abbiamo visto incontrandosi segretamente con la sua versione alternativa ma poi a un certo punto claudia ha capito una cosa e ha scelto di fare un gesto estremo uccidendo la sua controparte e sostituendosi a lei praticamente claudia si muoveva tra entrambi i mondi facendo il doppio gioco ad esempio fingendosi la claudia alternativa si fece consegnare da eva i piani che poi lei ha consegnato a tan house per fargli creare la macchina del tempo portatile e questo è solo uno dei mille gesti che ha compiuto durante la sua lunga vita a un certo punto claudia preleva il povero tronte del 2020 e lo porta con sé nel futuro di fronte alla tomba di regina e a questo punto scopriamo il vero obiettivo di claudia che coglie di sorpresa pure noi noi eravamo convinti che regina fosse figlia della relazione nata tra claudia tronte pare che non sia così tronte non è il padre di regina ma questo vuol dire che regina è l'unico personaggio esterno all'enorme albero genealogico dove i figli diventano genitori di loro stessi eccetera è l'unica esterna è l'unica che in caso di distruzione di questo loop si potrebbe effettivamente salvare per questo motivo claudia poi manda tronte nel passato a uccidere regina per motivare la se stessa più giovane e proseguire nel suo lavoro sotto copertura in entrambi i mondi fino a scoprire quello che adesso sta rivelando a adam che adam e eva hanno sbagliato tutto perché l'origine di tutta questa follia non risale in nessuno dei due mondi esiste un terzo mondo quello che claudia chiama il mondo d'origine e l'evento cardine è avvenuto proprio lì nel 1971 per colpa dell'orologiaio tan house in quell'anno l'uomo litigò furiosamente con suo figlio che se ne andò portandosi appresso alla famiglia per poi morire in un brutto incidente distrutto dal dolore tan house scelse di mettere a frutto la sua passione per i viaggi nel tempo creando una macchina del tempo per poter tornare indietro e impedire la morte della sua famiglia la macchina venne creata nel bunker e una volta attivata non solo ha generato il celebre buco nero nel tunnel sotto al bunker ma anche spezzato la realtà nei due mondi speculari il mondo di adam e quello di eva quindi tutte le azioni compiute in queste tre stagioni potevano essere evitate hanno non hanno fatto altro che continuare a rinvigorire il loop c'era solo un'azione da compiere impedire che la famiglia dell'orologiaio tan house morisse e così adam capisce finalmente quello che va fatto e compie un ultimo viaggio nel tempo ritornando al giorno dell'apocalisse recuperando jonas e creando una nuova linea temporale quella definitiva lo spedisce nel mondo di eva per recuperare la marta di quel mondo scegliendo un altro momento cardine della vita di lei quando gli adulti magnus e francisca la stavano reclutando per farla diventare un agente di adam e insieme questi due vanno nelle caverne nell'esatto istante in cui l'esperimento di tan house genera il buco nero per poter finalmente accedere a quello che è il mondo d'origine qui si materializzano proprio sulla strada che sta percorrendo in auto la famiglia di tan house e per una frazione di secondo ci viene il terrore che siano jonas e marta a provocare l'incidente ma per fortuna no perché questo non è un loop questo è il momento in cui il loop viene spezzato i due ragazzi convincono l'uomo a tornare indietro perché è rischioso viaggiare quella notte e lui accetta ritornando a casa e riappacificandosi con suo padre e così tan house non inventerà mai la macchina del tempo non genererà mai i due mondi alternativi che infatti iniziano a dissolversi nel nulla sparendo per sempre e cancellando tutti i personaggi interconnessi fra di loro compresi jonas e marta l'epilogo di questa serie è ambientato nel 2019 di quello che adesso è il sole unico mondo dove vediamo tutti i personaggi che non facevano parte dell'albero genealogico creato da jonas e marta che sembrano vivere una vita apparentemente serena scopriamo peraltro finalmente chi fosse il padre di regina era bernard doppler il fondatore della centrale nucleare che evidentemente non solo aveva scelto claudia per succedergli alla guida della centrale ma pure per averci una relazione anna qui sembra molto felice e aspetta un bambino dal buon waller al quale sta finalmente guarendo l'occhio eppure sul finale c'è un blackout che lo rompe mentre ci sta finalmente raccontando come cacchio si è fatto male la cara anna sussulta un istante quando vede un impermeabile giallo familiare anche a noi e le viene all'improvviso l'idea di chiamare il suo futuro figlio jonas spero che vi sia bastato spero che questo video vi possa essere utile io vi ringrazio di cuore per tutta l'attenzione che è riservata a questo canale soprattutto quando mi chiedete stupiti come mai i miei iscritti siano ancora pochi vista la qualità dei video grazie sto davvero cercando e confidando nel fatto di vederli crescere sempre di più mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati e appuntamento al prossimo video